Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi sto portando nuovamente, dopo tanto, tanto tempo, un video riguardante le recensioni. Questa volta vorrei portarvi appunto la review di Chiesa Tots. Se dovessi essere sincero, in questo periodo non ho voluto portare tanti video di recensioni, anche perché semplicemente non sono usciti, secondo me, giocatori validi da recensire o giocatori validi da consigliarvi. Quindi ho detto, vabbè, non faccio le recensioni, aspetto l'evento dei Tots, che solitamente sappiamo bene come l'evento dei Tots è uno dei migliori eventi, almeno parlo per me. Secondo me l'evento dei Tots è uno dei migliori eventi di tutto l'anno, perché escono carte forti, ovviamente, potenziate. Carte carine, spesso costano pure poco, come in questo caso, intanto state già vedendo la squadra, in questo caso andremo appunto a fare la recensione di Chiesa Tots. Un SBC non costa troppo, penso che così sui 150.000, in realtà poi farmandolo magari anche tramite obiettivi, quindi magari andando a sbloccare i vari correa, a sensi, i giocatori così, si riesce a pagare veramente, penso, pochissimo Chiesa, secondo me vale la pena. E colgo l'occasione, intanto per iniziamo con la review, ovviamente. Altra SBC che è uscita in questi giorni, che è Zapata Tots, anche lui costa molto poco, ripeto, quindi per rifarmi al discorso di prima, e vorrei portare la recensione sempre di Zapata. Poi fatemi sapere se volete vedere nei prossimi giorni o comunque quando sarà, anche in live magari, le recensioni appunto a modo di video o direttamente in live di Ziliski e Idicic. Fatemi sapere, nel caso, se volete vederla in live, sapete dove trovarmi, cioè sbredo su Twitch, quindi sapete anche lì come mi chiamo. E diciamo che, a squadra l'avete vista, direi che possiamo iniziare con la recensione, non perdereci in chiacchiere, e poi iniziare la recensione. Iniziando con la recensione vera e propria, possiamo ben vedere, allora, chiesa aveva un esterno, 1,75, altezza. Chiesa secondo me per essere un esterno anche punta, anche punta si può utilizzare, alto alto di work rates. Che secondo me non è un grand work rates, perché secondo me, ok, è buono avere alto in attacco, ma avere alto in fase difensiva per un attaccante barra esterno farà sì che tornerà molto, molto, anche in fase difensiva. Vi aiuterà molto anche in fase difensiva, però secondo me a volte potrebbe essere più un difetto che una cosa in, che è un pro della carta. Quindi dipende da come giocate, però a me non piace tanto questa cosa. PD preferito, destro, 4 di skill, 4 di debole. Devo dire, il 4 di debole è un buon 4 di debole abbastanza realistico, perché quest'anno sì, vi saranno a vedere, perché ci sono carte che a volte hanno 3 di debole, ma sembrano 5, tipo Dybala Moments. O comunque carte che magari hanno 4 di debole e col piede sinistro, in questo caso, sbagliano sempre i gol, quindi, ok, se ne va a vedere. Comunque in questo caso secondo me chiesa il 4 di debole abbastanza reale, devo dire, nulla da dire da questo punto di vista, solo queste positive. Partiamo con la velocità. Per quanto riguarda la velocità, 97 accelerazioni e 94 velocità scatto. A parer mio, si sente in game. Devo dire, ho avuto molti feedback anche da voi in live, dove mi dicevate che non si sente questa velocità, però si deve essere sincero. Io l'ho utilizzato come prima punta e ha fatto i buchi, è veramente veloce, molto reattivo. Tanta roba secondo me la velocità di Federico Chiesa e volendo si potrebbe anche andare a potenziare ulteriormente, dando qualche stile intesa apposito. Per quanto riguarda il tiro, troviamo che ha 92 di posizionamento, 85 di finalizzazione, 99 di potenza tiro, 95 di tiro dalla distanza. Ragazzi, secondo me sono le statistiche principali, poi, vabbè, non ha rigori, 75 di rigore, quindi non sarà il vostro rigorista chiesa in realtà. Però devo dire, potenza tiro, perfetta, secondo me, perché 99 in realtà si sente anche in game, quindi tirerà delle belle salette. 85 di finalizzazione, secondo me, invece, è la pecca di questa carta, secondo me, sono andate ad utilizzare come prima punta, perché non è una statistica bassa. Però, devo dire, a volte, sbaglia dei gol facili. A volte fa dei gol clamorosi, vi state anche vedendo qualche gol sotto nella rights, ma devo dire, a volte sbaglia dei gol veramente semplici. Quindi, magari, secondo me, come prima punta è un po' eccessivo andare ad utilizzare, anche se si può utilizzare come prima punta. Secondo me, esterno è più consigliato. Passaggi, per quanto riguarda i passaggi, troviamo che ha 90 di visione, 94 di corto, in realtà, qua, nulla da lì, e 90 di cross, quindi, come esterno, secondo me, top. 74 di lungo, che in realtà non è una statistica eccezionale, volendo, con uno stile intesa che vi farò vedere dopo, si può andare a migliorare questa statistica. 92 di effetto, anche qui, per i longshot, considerando che ha 95 di tiro dalla distanza, e 99 potenza tiro, tanta roba con i tiri dalla distanza chiesa. Per quanto riguarda il dribbling, per quanto riguarda il dribbling, anche qui, devo dire, questa statistica mi ha sorpreso, in positivo, in questo caso, perché troviamo che ha 96 di agilità, 86 di equilibrio, che secondo me è sufficiente anche per essere un esterno, in realtà, è una buona statistica, sì, potrebbe essere un po' più alta, ma in realtà non è così bassa. 88 di reattività, 91 di controllo palla, 94 di dribbling, e 85 di freddezza. In realtà, qui, veramente, nulla da dire, nello stretto chiesa si muove in maniera super agile. Buon controllo palla, ripeto, unito all'alta velocità, secondo me fa di chiesa un ottimo esterno, e ripeto, anche un'ottima punta, perché, ripeto, io l'ho utilizzato punta, questa UL, e mi ha fatto un sacco di golo. Ho il Tator 1, quindi, più o meno del mio classico risultato, e mi sono trovato veramente molto bene a utilizzarlo. Per quanto riguarda la difesa, per quanto riguarda la difesa, vabbè, in realtà non c'è quasi nulla da dire, in realtà non ha colpo di testa, perché ha 61 di precisione, vedrete che ha 66 di elevazione, vedrete dopo. Però, per quanto riguarda la difesa, secondo me va sottolineato l'80 di rettura difensiva, che lo rende anche, secondo me, utilizzabile come centrocampista, in un centrocamp a tre, in un rombo, in un 4-3-1-2, non più nel 5-3-2, magari, come centrocampista, o nel 5-3-2 addirittura come Asa. Perché comunque, 80 di rettura non è male, anche se poi non ha altre statistiche difensive, però, si potrebbe anche andare a utilizzare lì. Per quanto riguarda il fisico, per quanto riguarda il fisico, troviamo chi ha, ripeto, il 66 di elevazione che già vi aveva anticipato, 92 di resistenza, secondo me è statistica top. Non solo andate ad utilizzare punta, esterno, massa, centrocampista, farà sì che correrà tutto il tempo. 71 di forza, 77 di aggressività, buone statistiche, sono ottime statistiche, secondo me per un esterno, buone statistiche per un centrocampista, un po' cose così, se non andrete ad utilizzare il centrocampo, però, ci può stare. Ok, finita la panoramica generale della carta, statistiche, un po' anche una visce, ripeto, generale della carta, andiamo più nello specifico. Stile intesa, che vi vado a consigliare di utilizzare per Federico Chiesa, secondo me, sono principalmente i due in base a dove lo andrete ad utilizzare. Motore, se lo utilizzerete come esterno, secondo me è lo stile intesa migliore, perché andrete a dare un boost, cioè la velocità, mandandola a 99 accelerazioni, 99 di velocità scatto. Un boost al passaggio, soprattutto al passaggio lungo, e un boost al drilling, che secondo me sono le statistiche migliori, e secondo me sono le statistiche principali da potenziare, nel caso andrete ad utilizzare appunto come esterno. Se lo andrete ad utilizzare come punta, io sono andato a dargli lo stile intesa finalizzatore, che come state anche vedendo in questo momento, dà più 15 di finalizzazione, mandandola a 99, e un boost al drilling, che secondo me è una statistica che ci può stare, andrà a potenziare appunto, grazie appunto allo stile intesa finalizzatore. Dove andare ad utilizzare, vabbè, l'ho detto 30 volte, ATT, secondo me, quindi attaccante esterno. I migliori link per andare a linkare chiesa sono, secondo me, i giocatori della Juventus, come Rabiot, Cere 7, o Dybala, in caso Dybala Moments, e ovviamente Rabiot Moments, anche lui, con Cere 7, Oro, Ifs, 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 in base al budget che voi avete a disposizione, oppure anche la versione del Siummino, quello flashback, anche se poi dovrete andare probabilmente a mettere qualcuno dei due asset di intesa, quindi questi sono magari i migliori giocatori della Juventus. I migliori giocatori italiani con cui andare a linkare chiesa, secondo me, sono due, uno è tonale e l'altro è sempre un giocatore della Juventus, in realtà che chiedi di freeze, e se no, poi potete andare a ibridare semplicemente, andando a utilizzare i giocatori della Serie A classici, qualunque giocatore che volete andare a utilizzare. Un voto generale a questa carta, un voto generale, io ho dato un 8 su 10, non mi sono voluto allargare, ma neanche voluto dare un voto basso, perché ripeto, l'ho utilizzato punta, e mi è piaciuto tantissimo, non l'ho utilizzato esterno, anche se mi hanno detto in molti che è forte come esterno, quindi, ok, e mi fido, però principalmente l'ho utilizzato come punta e mi ha fatto 22 gol, cioè, anzi, in 22 partite, 17-18 gol, non mi ricordo, quindi praticamente un gol alla partita. GG, mi ha fatto hittare 1-1, abbastanza easy, e... puro così, secondo me, per quello che vale, poi soprattutto solo riuscirete a farmare tramite obiettivi, anche quindi magari sbloccando qualche bello vero l'alto, avrete un esterno a gratis, praticamente, un esterno pagato pochissimo, molto molto forte. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì, vabbè, lasciate un like, iscrivetevi al canale, come sempre, ovviamente, e scrivetemi nei commenti, ovviamente, quale recensione vorrete vedere nel prossimo video, appunto, riguardante le recensioni. A voi già penso da Zappatatoz, fatemi sapere se volete vedere magari i Zieliski, o magari anche i Zicic, perché sono due giocatori che vorrei provarli, nel caso non riuscissi a fare il video, ovviamente ne andrò a provare in live sul mio canale Twitch, sempre sbredo, ricordo, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, statemi bene, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!